Andiamo a sentire noi direttamente che cosa ha detto Renzi, ancora le parole di Renzi questa sera allo spoglio a proposito delle quote latte. Ecco che cosa ha detto il Sinaco di Firenze. Le quote latte dovute all'atteggiamento allucinante della Lega, c'è scritto Lega sotto, cioè si scrive quote latte, si legge Lega Nord, Lega Nord per l'indipendenza della Padania, costano al cittadino più di quello che è lo Stato in casa dall'Imu. E allora ecco qui, vediamo il fact checking che cosa ci dice, quanto sono vere le dichiarazioni di Matteo Renzi, è vero sì, quello che ha detto il Sinaco di Firenze, le multe per le quote latte ci costano più dell'Imu sulla prima casa. Andiamo a sentire che coltra, che cosa altro ha detto Renzi, ascoltiamo. La Lega doveva essere il federalismo, io faccio il Sindaco, non c'è mai stato una stretta centralista come quella con questi governi. Appena sono arrivati al governo hanno fatto un decreto legge, mi pare di 120 o 140 milioni di euro, per salvare dal dissesto finanziario il comune di Catania, noto feudo leghista, amministrato dall'ex medico personale del Presidente del Consiglio. Andiamo a verificare ancora le dichiarazioni di Matteo Renzi, grazie ai ricercatori, al lavoro dei ricercatori di Tor Vergata. Allora, il centrodestra ha fatto un decreto di 120-140 milioni per salvare il comune di Catania, sì, è vero quello che ha detto Renzi, è vero secondo i ricercatori di Tor Vergata. Andiamo a vedere ancora e a sentire ancora che cos'altro ha detto il Sinaco di Firenze, questa volta a proposito di ICI ed Imu. L'importo dell'ICI, vecchio stile, più o meno, stava sotto i 10 miliardi di euro. L'Imu complessiva sta sopra i 20 miliardi. Ed eccoci qui, l'importo dell'ICI era sotto i 10 miliardi, quello dell'Imu supera i 20, è vero anche questo. Insomma, abbiamo verificato che fino a questo momento tutte le dichiarazioni rese da Matteo Renzi allo spoglio di L'Aria d'Amico sono risultate vere, è stata approvata la loro veridicità.